Il percorso verso l'autonomia differenziata del Veneto fatto dal Partito Democratico è arrivato a Palazzo Madama dove il senatore Andrea Martella ha depositato la proposta di legge che riassume il lavoro fatto dai Dem Veneti in questi mesi. La proposta definisce norme e tempi e chiede un confronto governo-regione per chiudere la partita che ormai dura da oltre cinque anni. Noi abbiamo indicato il modo per farlo. Va approvata una legge quadro nazionale che garantisca l'unità del Paese e questa deve essere approvata dal Parlamento. È necessario stabilire i livelli essenziali delle prestazioni per garantire l'uguaglianza di tutti i cittadini ed è necessario stabilire quelli che sono i fabbisogni standard per l'attribuzione delle competenze alle varie regioni. Devono essere approvati i LEP, i livelli essenziali di prestazione, fatti sulla base di fabbisogni standard. Quello che chiediamo sostanzialmente al di là del disegno di legge è proprio di aprire con tutti i cosiddetti stakeholders regionali una discussione di cosa è che ci serve, cosa ci cambia poi in termini di organizzazione della nostra vita e in termini di efficienza di sistema, in che modo mi comporta in termini di sburocratizzazione. Queste dovrebbero essere le grandi domande. In tema di materie il PD chiede che ci si concentri sul sostegno al lavoro e imprese e rigenerazione ambientale che altre materie invece come per esempio la scuola vengano escluse. Riteniamo che alcune competenze siano del tutto inattuali e che vadano superate, per esempio la scuola che è una competenza che deve rimanere statale e che invece per altre questioni che riguardano il lavoro, la formazione, le politiche per il territorio l'autonomia sia un processo giusto. Grazie. 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 Grazie.